Noi a Napoli le zucchine chiamiamo cucuziel e noi oggi prepareremo i cucuziel alla scapece gli ingredienti sono zucchine menta olio aceto sale pepe ed aglio e adesso tagliamo i cucuziel per fare i cucuziel alla scapece è importante che prendiamo i zucchini novelli la misura deve essere piccola non ci vogliono i zucchini grandi se molto geometrico anche in cucina se il solito precisione adesso siamo pronti per friggere i nostri cucuzieli prendiamo l'olio grazie ci vuole una bella padella un po alta perché dobbiamo fare una bella frittura abbondante olio zucchina la scapece proprio il segreto è questo devono venire dorati mia mamma me lo dice sempre imma nell'olio non ce la metti una fogliorina di mente per profumo no amore adesso non dobbiamo profumare adesso dobbiamo friggere vedi come friggere bene le zucchine sono pronte per essere tolte dalla padella perché sono belle bionde adesso aspettiamo che l'olio si raffreddi un po perché dobbiamo condire i cucuzieli con l'olio della stessa frittura aspettiamo aspettiamo un poco però eh però non è che mentre aspettiamo tu mangi tutti i cucuzieli sono buoni andiamo a preparare il nostro condimento per i cucuzieli la scapece Matteo daresti un aglio un aglio mettiamo l'aglio come lui pulito si lo pulisci lo fai in metà in metà a metà così che esce l'odore che l'aglio sprigiona due no a due due pezzi due pezzi sì proprio così posso mettere piano piano tuffalo nell'olio ma poi il permesso si vai ecco adesso prendiamo la menta mi passi l'aceto sì grazie lo butti solo butti sì non lo butto io che so io quanto ne devo buttare adesso aggiungiamo un po di sale e anche una piccola spolveratina di pepe ecco qui adesso dobbiamo scaldare di nuovo l'olio per condire i nostri cucuzieli alla scapece il condimento alla scapece è un condimento particolare l'etimologia della parola scapece non si sa bene se proviene dallo spagnolo se proviene dal latino o addirittura dal persiano però io so che comunque è troppo buono ci siamo che profumo adesso aggiungo una bella cimetta di menta per decorare però i cucuzieli si devono raffreddare prima di mangiarli i cucuzieli alla scapece sono pronti favorite per preparare i cucuzieli alla scapece le zucchine abbiamo preso un chilo di zucchine novelle menta olio aceto aglio sale e pepe per prima cosa abbiamo tagliato le zucchine a rondelle e le abbiamo fritte in abbondante olio le abbiamo scolate e nello stesso olio abbiamo aggiunto l'aceto e rifritto con aglio e menta la menta deve essere abbondante sempre abbondante una volta aromatizzato l'olio versatelo sulle zucchine fritte per un tocco finale aggiungete un po di menta fresca grazie a tutti grazie a tutti